Dopo l'annuncio avvenuto ad aprile scorso presso la Casa dell'Architettura, durante il quale veniva comunicata l'intenzione dell'Ater di Roma di realizzare in un quadriennio 1082 alloggi all'interno di aree o di immobili di sua proprietà, nel rispetto dei tempi indicati è stato inaugurato il primo cantiere che porterà alla costruzione dei primi 12 alloggi in via Pietro Bembo, in quella di Prima Valle. Intorno al programma e alle specifiche dell'attuale intervento abbiamo ascoltato il commissario dell'Ater Daniele Modigliani e il direttore generale Claudio Rosi, oltre alla progettista dell'intervento l'architetto Guendalina Solimai. Siamo a metà giugno e parte il primo cantiere? Beh sì, meno male. La domanda verrebbe quando parte il secondo? Ma sono tutti programmati in serie, naturalmente noi abbiamo fatto un piano per fare 250 alloggi all'anno, questi sono 12 quindi la voglia ancora, però quelli prossimi si vedono da qua, sono altri 12 alloggi dei quali è prevista la ristrutturazione perché sono mal ridotti, finanziati, progetto finito, abbiamo solo il problema di garantire l'assistenza alloggiativa a quelli che stanno dentro. No, perché c'è un programma, diciamo di minima, da concordare col Comune di Roma, nel caso in cui facessimo questi alloggi spostiamo quelli qui e facciamo quell'altro cantiere, però è troppo tardi, noi vorremmo fare questa ristrutturazione prima, trovando una soluzione prima con l'amministrazione comunale. A proposito dei soldi, come siamo rispetto a questo progetto? Guardate, come saprete, ad aprile noi alla Casa dell'Architettura abbiamo presentato il nostro piano industriale, è un piano che prevede la realizzazione di 1082 appartamenti, un piano ambizioso, e tra l'altro questo è il primo cantiere che l'Ater di Roma, ritrovando la sua missione originaria, si apre dopo 10 anni, cioè dopo aver smesso per 10 anni nella sostanza di compiere le funzioni per cui è nata. Tutto si svolge in un piano triennale, se ricordo male? Il nostro programma è un programma quadriennale, che prevede un impegno tra i 1082 a nuovi appartamenti e 4.500 da ristrutturare, un impegno economico di 186 milioni di euro, noi abbiamo la prima annualità a disposizione, cioè 36 milioni. Che sono? Di chi sono? Dell'azienda? Sono dell'azienda, noi cominciamo a metterci del nostro, questo anche grazie al fatto che abbiamo potuto avere, ne abbiamo già parlato nelle vostre trasmissioni, dei risparmi legati al fatto che non paghiamo l'Imu, perché il legislatore nazionale ha deciso per l'anno prossimo e per quest'anno di presentarsi, però diciamo che questa condizione, come vedete, non pagare una fiscalità illogica ci consente di fare le case e di manutenere quelle che abbiamo. Nuove case, ma c'è anche di più nel programma nostro e anzi nel lavoro che stiamo facendo, noi abbiamo avviato appalti per 30 milioni per quest'anno, in questo periodo sono in corso. Architetto, si parla sempre di tagli piccoli, perché? Perché è cambiata la composizione dei nuclei familiari, c'è proprio un cambiamento epocale nella composizione delle famiglie, con una diminuzione radicale del numero dei componenti delle famiglie, che è passata da 3,5 degli anni 80-90 a poco più di 2, significa che la domanda abitativa, anche quella che sta nelle graduatorie del Comune di Roma, è soprattutto quella di case piccole. Allora, direttore, un'ultima domanda, cadenze ai fini proprio della realizzazione, vedere le case compiute, partendo da questo cantiere qui a Via Petrobenbo in Prima Valle? Guardate, le cadenze, consideri che un permesso di costituire dura 3 anni, ma nel frattempo noi, con gli impegni, con i progetti che abbiamo a disposizione, con gli appalti in corso, inaugureremo già entro l'anno almeno altri due cantieri. Quindi l'appuntamento è al prossimo cantiere, a tutte e due? Il prossimo cantiere in autunno. Bene, auguri a tutte e due. Grazie. Guendalina Salimè, che è il progettista di questa realizzazione, che dopo tanti anni finalmente rivediamo mettere un mattone sopra l'altro da parte dell'Ater, quali difficoltà e che tipologie avete pensato di mettere insieme rispetto a questo progetto? Allora, il progetto, diciamo, in questo senso è abbastanza innovativo perché sarà un progetto innanzitutto in classe A, quindi questo è importantissimo, in senso avrà un forte risparmio energetico. Poi sono degli alloggi, sono 12 alloggi, pensati in maniera abbastanza innovativa, quindi hanno una sorta di galleria che non è proprio un ballatoio, che sarà anche verde, hanno tutti un cuore soggiorno a cui attorno ci sono le stanze, chiaramente sono stati esposti bene, cosa che adesso in genere gli edifici non fanno più, non sono più esposti bene e hanno poi, abbiamo giocato moltissimo, siccome sono degli edifici che hanno una sperimentazione che è non solo energetica, ma anche una sperimentazione, diciamo, sostenibile, fruitiva, quindi abbiamo lavorato sul colore, anche sull'ambientazione dei luoghi sia pubblici, quindi ci sono dei piccoli luoghi pubblici dove gli abitanti possono stare, e degli alloggi stessi. Quindi in questo senso ci sono anche delle sperimentazioni, ovviamente sono 12 alloggi, sono un piccolo nucleo di alloggi, però io penso che possono essere un piccolo, un primo passo per una nuova concezione anche di alloggio, diciamo, chiamiamo così, di edilizia residenziale pubblica. Se dovessimo fare un discorso di costi benefici rispetto a quelle che sono adesso queste prescrizioni, tipo, mi permetta il termine, ambientalista? Beh, vabbè, diciamo, le prescrizioni ambientaliste sono che devono essere degli edifici, che rispondono alle normative, diciamo, in linea con l'Europa, ma questi rispondono perché sono appunto, sarà un edificio in classe A, vuol dire un edificio che ha un forte, diciamo, risparmio energetico, quindi ha i muri fatti bene, gli infissi che hanno, come dire, una prestazione importante, hanno i pannelli fotovoltaici, i pannelli, diciamo, i pannelli solari, insomma, addirittura questo edificio ha anche l'esperimento geotermico, ovvero di andare, diciamo, con delle pompe che vanno sotto il suolo. Quindi, per essere un piccolo edificio, che costa anche relativamente poco, è un edificio che ha delle innovazioni importanti, che sono, diciamo, oggi in Europa, sono all'avanguardia. Quindi l'Ater è al passo con le novità, direi proprio di sì, insomma, abbiamo ovviamente provato, sempre con mezzi, chiaramente lei mi fa la domanda, costi-benefici, ovviamente i costi sono dei costi di edilizia residenziale pubblica, però abbiamo, io penso che poi con le azioni, minime azioni, si riescano a fare anche poi delle architetture, diciamo, importanti, dignitose, ecco, belle. Poi qui ovviamente si è lavorato anche sull'aspetto estetico, nel senso abbiamo lavorato anche sull'involucro, lavorando... Quindi dalla vecchia Prima Valle alla nuova Prima Valle. Esatto, alla nuova Prima Valle. Questo sarà un piccolo elemento energetico, sì, un cuore energetico in Prima Valle, ma io credo in questo, nel senso che poi degli sperimenti nella città, no, delle agupunture di qualità fanno bene a tutto il quartiere, questo è in dubbio. Grazie, grazie ancora architetto. Grazie.